Il nostro Dio è l'immagine del Dio cristiano e Gesù, il Gesù crocifisso e piagato che versa il suo sangue per noi e non chiede all'uomo, all'umanità, di versare il sangue per Dio, che dà fino all'ultima goccia di sangue. Il testo della Passione secondo Matteo è proprio quello che ripete più volte all'interno dei due capitoli della Passione la parola sangue e la applica al Signore e a noi. Questo sangue versato è per la salvezza di ognuno di noi, è per la salvezza dell'umanità intera, è il segno della misericordia. E' esattamente quello che chiediamo e preghiamo quando utilizziamo la coroncina della misericordia, tanto cara e lasciataci attraverso Santa Teresa Kowalsk. Chiediamo al Signore che ci aiuti, che ci aiuti veramente a guardarlo, a riconoscerlo e assumere le nostre responsabilità per portare la croce, certo che è un momento di passaggio, perché il definitivo non sta nella croce ma nella risurrezione, nella Pasqua che ci sta davanti e che celebreremo tra otto giorni. Amen.